La tana del frerito Ciao preterigno Visto che tutti oggi hanno aperto le uova di Pasqua Io sono rimasto Diciamo A fare dell'altro Volevo appunto portare il format Dove insieme aprivamo le uova di Pasqua Io ecco ho questa della motta Non è un product placement E ho questa della Kinder appunto Dei Pokemon Quindi magari posso mandare la sorpresa ad Atlas Dato che mi piace molto Se volete possiamo scartarli insieme Assolutamente si direi Guarda piuttosto ti giuro Mi sparo nelle palle Cerco di prendere anche entrambi i testicoli Tu apri le uova e lo sai C'è il fai da sottofondo Intanto io dalla schiacchieriamo Guarda ci metto così Vai intanto io dalla sparriamo Sette e mezza Dipende se ho lezione Se non hai lezione E se non ho lezione alle 8 fai conto Tardi Tardissimo Ribello del Brave Mattinata buttata Non sei uno che fa serata Questa violenza è veramente inaudita Non era necessaria Credo sia quasi bannabile No credo sia quasi morto Che è decisamente peggio No vabbè quello sarebbe anche quasi un favore Ma cos'è scemo Ma sei cretino Ma sei cretino Eh ho fatto un po' un casino Ma è al limite di ban Puoi giustificare No non ti sei fatto niente Sottolineiamo No non mi sono fatto assolutamente nulla Nel modo più assoluto Un trauma cranico però Perché di solito per queste scene No perché nel senso No perché io solitamente le uova le apro così Non so voi È tutto un paradosso Sono solo un pazzo Questo amore so che sparirà Ora non mi muovo ma nemmeno stacco Canto solo e faccio na 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 Ma non posso fare belle cose Sì quelle che dici Ma come possiamo fare Grazie